El Pre de Rataná Don Giuseppe Inviato Speciale Don Giuseppe Gervasini El Pre de Rataná 1867-1941 a cura di Luciana Petruccelli I Libri del Casato Esse Le sofferenze dei popoli fanno parte del loro karma? Ogni individuo ha un suo proprio karma che poi sfocia nel karma collettivo? Don Giuseppe I drammi dei popoli che vivono la guerra da lunghi anni che soffrono per la siccità, la fame, le malattie, la miseria sono esperienze di spiriti che si sono convogliati per motivi vari in qualche parte della vostra terra che in quel momento si prestava a poter far consumare un'esperienza di quel tipo Tutti gli uomini della Terra, però hanno il dovere di partecipare in qualche maniera alla soluzione almeno parziale di questi drammi Perciò, anche se questi popoli devono vivere l'esperienza della sofferenza è dovere di ogni uomo fare in modo di contribuire ad alleviare lievemente quello stato di dolore Indipendentemente dall'esperienza vi è l'obbligo dell'amore e dell'aiuto di tutti gli uomini fra loro